Ma qualcosa lungo il tragitto ti ha fatto cambiare, non sei esistito più, hai permesso al primo fesso che arrivava di farti dire che non eri bravo, sono cresciute le difficoltà, ti sei messo alla ricerca del colpevole e l'hai trovato in un'ombra. Ora ti dirò una cosa spontanea, guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco e per quanto forte tu possa essere se glielo permetti ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. E se credi di essere forte lo devi dimostrare che sei forte perché un uomo più c'è solo senza resistere, non se ne vai in giro a puntare il dito contro chi non c'entra accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I miliardi fanno così e tu non lo sei, non lo sei affatto! Spermato però ancora Gapiedini, provo a partire a spingere il contropiede Felipe Anderson, l'occhio perché punta l'era di rigore, c'è che Andreva che lo accompagna, Anderson può andare dentro per Close, Close! Grande palla, grande palla! Ancora lui, sempre lui! Grande palla Felipe! Nessuno può colpire duro come fa la vita, perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi come incasti e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarmi, così sei un vincente! Fini Venire Qua in terza si dice torna più forte di prima e questo è stato il lavoro duro di non volare con tutto che succede nella vita anche nella vita professionale e io ho sempre avuto la testa alta per lavorare e tornare in forma subito. Sì, sì, loro sono importanti perché sempre mi hanno dato sostegno, sempre hanno creduto a me e questa è una gioia che condiviso con loro. Grazie a tutti.